Direttore Fabio Lupo, con l'arrivo di Sansovini possiamo dire che il mercato del Teramo almeno nel reparto offensivo è chiuso? Beh io direi che per il momento è proprio chiuso perché credo che abbiamo completato un po' tutti i reparti con varie scelte e quindi per il momento stiamo così, adesso verifichiamo già in questo primo trittico l'impianto di squadra costruito poi avremo altri amichevoli, eventualmente poi dopo Ferragosto tireremo una riga e vedremo se sarà il caso di intervenire però io credo proprio che almeno numericamente non ci sia assolutamente bisogno. Sansovini che cosa può portare in più e soprattutto alza il livello della squadra fino a che punto? Marco porta con sé tutto il suo bagaglio di esperienza, di tecnica, di gol, di curriculum, di personalità quindi evidentemente è un apporto importante sotto tutti questi aspetti però io credo che già anche chi è già lavorato a Vindoli sta già lavorando molto bene sta dimostrando che è venuto con le motivazioni giuste sia il gruppo che è rimasto sia chi è arrivato e questa secondo me è la forza di questo gruppo e la cosa più importante di questo mercato. Vogliamo chiarire un po' una cosa di questa trattativa in realtà l'ha già detta anche Sansovini lui aveva già subito detto sì al Teramo che poi è rimasto alla finestra perché c'erano delle questioni con il Pescara però lui aveva sposato già dall'inizio l'offerta da parte vostra. Assolutamente sì, lui ha condiviso subito quel progetto, il programma, mi aveva accolto un grande entusiasmo poi ci sono state una normale operatività che riguardava più altri aspetti ma legati così al suo dopo calcio all'aspetto familiare così che lo hanno indotto a fare le riflessioni un pochino più approfondite ma il suo entusiasmo nei confronti di questa avventura con il Teramo è stato immediato e a noi questa è la cosa che ci ha convinto anche ad aspettare qualche giorno e a lasciare come detto nelle occasioni di qualche giorno fa la porta socchiusa perché lui la potesse riaprire.